I profughi vanno accolti, non ospitati come turisti, e la convenzione con le associazioni degli albergatori, stipulata dalle istituzioni del territorio, non può considerarsi una vera accoglienza perché non rappresenta un modo efficace di integrazione nel tessuto sociale. Così l'Arci Abruzzo esprime perplessità sull'accoglienza dei profughi ucraini nelle strutture alberghiere della regione. Per Valerio Antonio Tiberio, presidente di Arci Abruzzo, occorrerebbe infatti attivare i progetti SAI, sistema di accoglienza e integrazione gestiti dai comuni con il coinvolgimento delle associazioni per una vera integrazione territoriale a dispetto dell'ospitalità indeterminata nelle strutture alberghiere che è spesso sinonimo di precarietà. Noi pensiamo che lo Stato, da ormai molti anni, ha degli strumenti molto efficaci che hanno prodotto grandi risultati sul tema dell'accoglienza. Parliamo della rete SAI e in misura diversa anche della rete dei CAS gestita dalla prefettura. Pensiamo che utilizzare strumenti tipici che abbiamo visto già nelle vicende del terremoto per un'accoglienza che sarà di lungo periodo come questa non garantiranno inclusione sociale, diritti dei cittadini e i migranti, possibilità per le famiglie di integrarsi serenamente nel territorio. La maggior parte di questi profughi rimarrà qui anche dopo il conflitto perché l'Ucraina piomberà in tutta evidenza in un'economia di guerra nella quale non molti vorranno vivere. Abbiamo bisogno come enti di terzo settore di essere coinvolti insieme ai comuni per far partire, grazie ai poteri straordinari delle due ordinanze della protezione civile nazionale che ha fatto Curcio, nuovi progetti SAI e un'estensione molto più efficace dell'integrazione all'interno del nostro territorio. Pensiamo che il colloquamento a tempo indeterminato nelle strutture alberghiere sia la soluzione più semplice ma anche più banale che non garantisce risultati già nel breve periodo. Potrebbe essere quella dell'ospitalità appunto negli alberghi, nelle strutture alberghiere del territorio, una sorta di momento cuscinetto in attesa di capire davvero quale sarà il futuro di questa nazione ma anche dei paesi che poi ospitano questi profughi? Se così fosse, sarebbe opportuno che la regione già dicesse che lo strumento degli alberghi è fino al 30 aprile, cosicché i comuni, le comunità e gli enti preposti si possano già organizzare per un'accoglienza diffusa negli appartamenti efficaci con il raccordo dei comuni e degli enti di terzo settore già da ora e non aspettare un tempo indeterminato e indefinibile.